S-Sapporo, vecchio ufficio governativo dell'Hokkaido. Guardate che roba! In effetti è molto alla moda per essere un luogo così antico. Un tempo era la sede principale del governo dell'Hokkaido, ora resta un simbolo dell'isola e un'importante proprietà culturale. Semplicemente meraviglioso, che quiete e che simmetria. La mia anima di artista non può che infiammarsi. E il giardino è a dir poco adorabile, quante specie di fiori pensate che ci siano? Che succede laggiù? Tan tan tan, questo fiore è completamente appassito, come hai potuto strascurarlo? Signora, mi dispiace tanto che quest'estate è molto più calda della passata. Risparmiti le tue scuse, questa aiuola è uno dei punti d'attrazione principale della città. Ti sei dimenticato di lavorare per la più potente donna di Sapporo Central, ma forse non lo farai ancora per molto. No, la prego, farò di tutto per sistemare le cose. Puoi tenere gli occhi incollati a questi fiori tutto il giorno, per quel che mi riguarda. Basta che non ricapiti più. Allora, farò esattamente così, sindaco. Ma quella faccia, quella sì che è una donna spaventosa. Un momento, l'ha appena chiamata sindaco. Oh, siete qui per il giro turistico? Sono mortificata che abbiate dovuto assistere a un comportamento così poco professionale da parte del nostro staff durante la vostra visita. Oh, si figuri. Possibile che tu sia Aru-san? Oh, è normale che tu non mi riconosca. Eri così piccola l'ultima volta che ti ho vista. Sono io, Mariko Yodo. Tu padre, il presidente Okumura, era un mio grande amico. Yodo? È il sindaco. Ok, ragazzi, niente panico. Oh, sta forse dicendo che lei è Marisan. Oh, sì, e questo mi rincuora. È passato così tanto tempo. Aru, conosci questa signora? Sì, e come? Veniva spesso a farmi visita quando ero piccola. Marisan è una delle clienti di mio padre. Giocavamo sempre a golf insieme. E lei mi teneva a compagnia ogni volta che mi annoiavo, mi sentivo sola. Che razza di coincidenza. Puoi dirlo forte. Aru-chan, mi dispiace per quello che è successo a tuo padre. Oh, non si preoccupi. Grazie per l'interessamento, però. Beh, se c'è qualcosa che ti turba, sappi che sono qui a braccia aperte per te. Mi fa piacere sentiglielo dire, ma sto bene. Ottimi collaboratori che si stanno prendendo cura della mia azienda, mentre io ce la metto tutta per laurearmi. E sebbene sia grata di essere circondata da persone così meravigliose, devo imparare a camminare sulle mie gambe. Aru-chan, cielo, come sei cresciuta. Oh, abbraccino. Mari-san, non sono più una bambina. Oh, perdonami, mi sono lasciata sopraffare dalle emozioni. Ebbene, sei qui in visita con i tuoi amici? Mi auguro che vi stiate godendo il sapore al massimo del suo splendore. State tranquilli, il mio staff sta lavorando duramente per rendere il sapore una meta meravigliosa e imprescindibile per chiunque. Smetti di fissare il terreno, sostituisci subito quei fiori orribili. Lasci fare a me. Accidenti, basta che mi volti un secondo e battono tutti la piacca. Queste lezioni mi hanno tenuta occupata giorno e notte, ma fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare per voi. Tan tan tan. Zekichi, ma che cazzo avete avvicinato il sindaco? Perdona la franchezza, ma mi sembra alquanto ipocrita. Marisan, una volta eri così gentile con tutti. Pensate che posso non trattarsi del monarca a cui stiamo dando la caccia? Non saprei, l'abbiamo appena vista incazzarsi di brutto con quel tizio. La gente normale non sbrocca per delle piante. Stai bene, Haru? Sì, è tutto a posto. Sono solo un po' sorpresa, sorpresa, tutto qui. Sì, scusatemi se non sono riuscita a strapparle la parola chiave. Ero sovrappensiero. Non devi scusarti. Già, ne abbiamo già parlato. La otterremo quando terrà il suo discorso. Makoto ha ragione, avremo la nostra occasione. Per oggi limitiamoci cioè ad andare in giro a raccogliere qualche voce a Yodo. Sì, mi piacerebbe scoprire cosa l'ha cambiata. Magari parleremo col tizio con cui si è incazzata per i fiori? Ma, chi lo sa? Sembrano esserci persone di ogni tipo qui. Significa che ci saranno anche pettegolezzi di ogni tipo. Ciò di cui abbiamo bisogno sono informazioni che indicano che il marico Yodo è un monarca. Andiamo! Inizio indagine. Ok, dove posso trovare delle informazioni? Ann, hai trovato qualcosa? Guarda quanta gente. Pensavo ci fosse qualche celebrità tipo, ma a quanto pare si sono accalcati tutti qui per quel manifesto possibile. Quale manifesto? Ah, lei che si candita al sindaco. Ascoltiamo. Sindaco Yodo, potrò finalmente incontrarti. Oh sì, sei l'incarnazione di tutti i miei sogni e di tutte le mie speranze. Questo tizio è completamente fuori di testa. Starà parlando del discorso di domani. Sarà meglio non abbassare la guardia. 34%, minchia. Così di colpo. Chi è che mi chiama? Phoenix, c'è stata un'emergenza. Per favore, vieni al distributore automatico vicino alla farmacia immediatamente. È successo qualcosa a Yusuke, dovremmo andare a cercarlo. La farmacia non è qui, tra l'altro. No, ti prego Yusuke, non dirmi che ti si hanno mangiato le monete. Cos'è successo, Yusuke? Guarda che roba. È un succo confezionato. Sull'etichetta c'è un pesce e del latte. Risultati della ricerca. Questa bevanda chiamata Brodo Primordiale è considerata una specialità regionale. Estraggono i succhi dei pesci locali e li mescolano con del latte fresco dell'Okaido. Lì è indirizzato specialmente agli uomini. Non so nulla di questa roba. Sono solo preoccupato per l'odore. Chi mai potrebbe inventare una mostruosità simile? Si direbbe che la cultura di Sapporo sia alquanto fuori dal comune. Diamine, mi hai fatto riezzare i peli per niente. Comunque sia, sei riuscito a raccogliere qualche indiscrezione? Neanche un po'. Ero così sconcertato che non riuscirò a pensare ad altro. Forse potrei farmi perdonare offrendoti questo, Phoenix. Fornisci mi un risponso sul gusto, per favore. Il Brodo Primordiale. Dimmi che c'è una descrizione per sta roba. Dono di Yuzu, che ci vuole coraggio per berlo. Ripristina 30 HP. Wow! La maggior parte degli oggetti curativi fa sempre dai 20 e 50. Niente più, niente meno. Così non va. Devo sbrigarmi. Mi serve una medicina. Vada dal dottore. Mi piacerebbe, ma non ho il tempo. Domani ho il turno molto presto. Devo guarire la svelta. Quanto meno rimettermi dal lavoro, altrimenti il sindaco andrà su tutte le furie. Per caso ha detto il sindaco? Ehi, che mi dia tutte le bevande energetiche e i farmaci del negozio. Dico sul serio, devo proprio svuotare gli scaffali. Sarà sommerso dal lavoro come quel dipendente del municipio che abbiamo visto questo pomeriggio. Minchia. Guarda Futaba e Makoto là in fondo. Ehi. Di qua invece c'è Aru. Ehi Aru, hai scoperto qualcosa? Potrebbe essere perché le elezioni sono vicine, ma Marisan è praticamente sulla bocca di tutti. E non ho sentito nemmeno mezza critica. Non fanno che tessere le sue lodi. A me sembra quasi innaturale. Chissà. Beh, non hai scoperto nulla, insomma. Tu invece? Ehi, guarda quanti ramen bar. Sono praticamente dapperturto. Assurdo. Cavolo, questo posto è un paradiso. Quasi quasi me ne resto qui. Santo cielo. Va bene riparsi gli occhi, ma non dimenticare il nostro motivo per cui siamo venuti. Non me lo sono dimenticato. Stavo cercando informazioni su Yodo, giusto? L'istinto mi dice che qui troveremo una pista, forse. L'importante è che ci credi. Tu, vecchio, sai qualcosa? Ehi tu, alle prossime elezioni voterai per il sindaco Yodo, vero? Ah, certamente. Questo non è possibile. Chi non risiede qui non può prendere parte alle elezioni locali. Eh? Da dove viene quella voce? Un momento, tu sei un turista, vero? Beh, poco importa. Ma ricorda, il sindaco Yodo è una persona straordinaria. Sarà lei guidare Sapporo, anzi, l'intero paese. O magari il mondo intero, verso nuovi traguardi. Shido 2.0, insomma. E queste elezioni sono soltanto la prima tappa di quel viaggio. Sindaco Yodo, Sapporo è col te. Lunga vita al sindaco Yodo, gloria Sapporo. Ok, non c'era niente di normale in tutto questo. Indagine completata. Perfetto, abbiamo raccolto parecchie informazioni. È proprio come Shibuya e Sendai. Più voci sentiamo, più Yodo diventa sospetta. Sai davvero come dice Zenkichi? E cioè che sta diffondendo la sua parola chiave durante i suoi discorsi? Sapremo se è davvero il monarca emettendo la sua parola chiave in Emma. Andiamo a letto presto e facciamoci trovare meglio per domani. Pensi che dovremmo tornare indietro? Continuo ad esplorare io. Va bene, ma appena hai finito torniamo al camper. Va bene. Credo non ci sia più nulla da fare. Torniamo al camper. Pronto a dormire? Sì. Chissà che tipo di discorso terrà domani Yodo. Non lo so, scopriamolo. Sono andato a letto presto in vista di domani. Oh, ma guarda la Venza. Ciao. Ti stavo aspettando. Sembra che tu e i tuoi amici stiate diventando più forti. Tuttavia l'ombra della calamità incombe, afficinandosi sempre di più al tuo cammino. Non dimenticarlo. Quanto è vicina? Molto. So soltanto che, sebbene io non conosca la sua reale natura, sta per manifestarsi una grave minaccia. Cosa può essere più minaccioso di un dio dei desideri che vuole distruggere l'umanità? Cosa può esserci di peggio? Tornando a noi. Ti ho chiamato per parlarti del tuo potere del jolly. Grazie ai tuoi progressi il numero massimo di persone in tuo possesso è aumentato. Yes. Dieci persone. Ottimo. La tua capacità di controllare molteplici persone ti fornisce possibilità infinite. Affina questo potere insieme ai tuoi alleati, con i quali hai stretto legami indissolubili e preparati alla calamità imminente. Per qualsiasi altra necessità mi troverai qui. Oh, la venza. Io voglio un attimo mettere un punticino su questo gioco e voglio credere, anzi, non ci voglio credere in realtà, perché vorrei che non succedesse, ma sono abbastanza sicuro di quello che sto per dire. Secondo me, tra non molto, potrebbero uscire dei DLC per questo gioco, ovvero pacchetto persona che potrebbe aggiungere, magari gratuitamente, magari a pagamento, tot persona, nel caso di quello gratuito ne aggiungerebbero abbastanza, ma quello a pagamento potrebbe aggiungere persone uniche che erano presenti in Royal, per esempio. Esempio. Raul. Satanael. Le evoluzioni delle persone dei nostri compagni. La butto lì. Ma potrebbero aggiungere anche il pacchetto compagni. Potrebbero rientrodurre Yoshizawa. Potrebbero rientrodurre Akechi. Però mi fermo qua. Torno indietro. Stammi bene. Stammi bene anche tu, la venza. Ecco qua il discorso. Siete tutti consapevoli della corruzione che ha afflitto il nostro consiglio comunale. Siatene certi, nessuno si vergogna più di me. Come tale, il disegno di legge sull'etica che ho proposto impedirà per sempre alla corruzione di risollevare il suo ripugnante capo. Con il vostro sostegno renderò la città di Sapporo e un paradiso splendido e immacolato. Puro come la neve di un giorno di metà inverno. Ho già capito tutto. Donna, sei talmente leggibile, anzi gioco, sei talmente leggibile che è chiaro quale cazzo sarà il tuo elemento. Neve? In un giorno d'estate? Bene, sarai una persona di ghiaccio. Questo vuol dire che Yusuke non servirà a nulla. Sono triste ora. E insieme trasformeremo la nostra casa in un raggio di luce per il mondo intero. Dove cittadini e governanti possano diffondere verità e purezza. Pura come la neve del mattina. E ora, signori, ripuliamo Sapporo. Si, facciamolo, che cazzo? Stiamo con te! È incredibile, brava! Che cazzo, finalmente ci voleva un sindaco così. Porca troia, sembra quasi un culto. La sua popolarità è pazzesca. Pensate che abbiano subito tutti il risveglio del cuore. Le folle hanno il potere di attirare le persone. Suppongo che alcuni siano venuti qui di propria iniziativa. Maru. Guardate, Yodo ha tirato fuori il suo telefono. Sta per comunicarla, siete pronti? Sono certo che conosciate tutti, Emma. Dico bene? Me la cavo abbastanza con la tecnologia. Perciò sentitevi liberi di aggiungermi. Per chi tra di voi sta ascoltando Fuori da Sapporo, Fuori dall'Hokkaido, persino al di là dei confini nazionali. Questo invito ha aperto a ognuno di voi. La parola chiave è città della... Porco il cazzo. Città della neve. Ecco, è tutta vostra. Tutto il pubblico la sta aggiungendo. Non dovremmo fermarla adesso. No, creando scompiglio adesso tireremo su l'attenzione indesiderata. Odio doverlo dire, ma per ora non possiamo fare altro che restare a guardare. Almeno abbiamo ottenuto la parola chiave. Ora possiamo infiltrarci nella prigione di Yodo ogni volta che vogliamo. L'odore qui a Suzushi non è troppo forte. Entrare nella prigione non dovrebbe essere un problema. Quindi, api, preparativi sono compiuti. Allora andiamo, ragazzi. Se Marisan è davvero il monarca, è il nostro dovere fermarla. Non possiamo permetterle di giocare con i cuori di persone innocenti. Hai ragione. Io voglio cred... Non ne ho la certezza, ma voglio credere che ci sarà uno sportivo e che a simpatizzare sarà Ryuji. Dico solo questo. È ora di salvare Sapporo. D'accordo, prepariamoci, iniziamo l'infiltrazione. A proposito di prepararci, vediamo se ci sono nuove armi. Una volta concluso il discorso, la gente se sta andando. È tempo di prepararsi per la prigione. KFM. Forse vendolo pollo. La via migliore per entrare e uscire vicino all'incrocio, dove vedi quel grosso cartello. Quando sarete tutti pronti, riunitevi lì. Ricevuto. Esploreremo una nuova prigione. Non c'è modo di sapere cosa ci aspetta lì dentro. Assicuriamoci di essere pronti. Nel caso, tanto il primo giro non è mai importante. Quindi, al massimo dopo torniamo al camper e poi facciamo acquisti. Sì, penso che da qui potremo entrare nella prigione in tutta sicurezza. Senza che nessuno ci vede in mezzo alla strada, giustamente. Entriamo? Andiamo. Questa sarà la nostra terza prigione. Cerchiamo di non perdere la concentrazione. Io continuo a dire. In mezzo alla strada, dove chiunque può vederci. Va bene. Orca troia, che freddo. Od iuto. Ho freddo, ho freddo. Oh, Dio. Fa freddo. Ha detto cazzo. Ryuji ha detto la parola con la C. Che in realtà, secondo me, l'hanno tradotto in italiano, però... Nella versione normale non direbbe, cazzo. Wow. Bello, mi piace. Comunque, Yusuke, credo che sia l'unico che non abbia avuto problemi con il freddo. Questa sinfonia molto cario... What? Perché una forchetta ha un coltello? Questa sinfonia molto cario... Mi ricorda molto i classici Disney. Vabbè, come ho detto, il primo giro nella prigione non è mai quello definitivo, quello importante. Il primo giro nella prigione è quello che dura di meno. Quindi cambiamo squadra e visto che c'è la neve ed è palese, direi di portarci a prescindere Han. Poi direi Ryuji ed infine... Portiamo Makoto perché deve livellare. E ora esploriamo la prigione. Una città ricoperta di ghiaccio. La sua serenità nasconde in realtà un'enorme... Una città ricoperta di ghiaccio. La sua serenità nasconde in realtà un'enorme desolazione. Che freddo! Perché fa così freddo in estate? Il fatto che riusciamo ad entrare in questa prigione significa che Marisan è davvero il monarca. Va tutto bene, la mia preoccupazione principale è restituire i desideri a tutti. C'è un edificio in lontananza che sembra un castello, dovremmo dirigerci laggiù? Sì, i desideri dovrebbero essere lì. Ok, allora indagare su quel castello sarà la nostra priorità numero uno. Avanziamo allora. Ma dai, scusa un attimo. L'ho visto il cartello, eh? Questo cartello l'avevano mostrato prima. Intrusi, acciuffateli! Ombre, scoppiggeteli e proseguiamo. Ovviamente tutta roba di ghiaccio. Tocca a te, Panther! Aguilau! Potenziati di fuoco! Ahia, bastarda! Madonna! Con i nemici di ghiaccio e la prusta di fuoco di Panther diventa tutto facile fare i danni tecnici, eh. Dove siete? Maledetti cecchini! Vai, testata! E ora di nuovo il passaggio a lei. Dove sei? Dove sei? Arrivo, 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 arrivo! Altri nemici? Perfetto, completati tutti. Uff, stavo dicendo. Dov'è il cartello? Quel cartello qua l'hanno mostrato prima e c'era un tizio con in mano il vino. Adesso c'è lei. Povera Futaba, c'ha freddo. Mi sa che la star di questo palazzo sarà proprio la nostra cara Panther. D'altronde è stra-avvantaggiata, soprattutto il fatto di fare la frusta di fuoco vuol dire costantemente fare danno di fuoco. È come per Makoto che può fare costantemente i danni da nucleare. Solo che in questo caso non c'è nulla che voi possiate fare. Comunque, piccola considerazione da parte mia. A me sembra che abbiano ridotto tutto, ma non so se in bene o in male. Nel senso, fai pochi danni ma comunque i nemici hanno poca vita. Spendi pochi soldi, però ne guadagni un fottio. Quello effettivamente è la cosa maggiore. Madonna. Riprenditi, Panther. Aguilo. Stupida Lilim. E abbiamo ottenuto Jack Frost. Cosa troviamo in questo forziere? Un portafortuna. Uh, ottimo. Dobbiamo arrivare dall'altra parte e per arrivarci dobbiamo salire su questa corda. Corda che arriveremo salendo qua sopra. Ricaricati con il fuoco e colpisci di tutti. Madonna. Lo so che effettivamente ho detto che Conan e Makoto non mi trovo benissimo. però una volta che impari ad usarli i personaggi vanno tutti bene. Cioè nel senso, se riesci ad imparare ad usarli, sono tutti forti. E che falle Lilim. L'unico problema di Panther è che funziona su un'area troppo ampia. Molto spesso i colpi, tipo quello lì di fuoco, va troppo in avanti. L'ho detto che Panther è avvantaggiata, però è anche svantaggiata purtroppo. È un doppio taglio purtroppo Panther perché è sia forte che debole a questo elemento. Altro forziere, vediamo cosa troviamo. Un incenso degli HP. Ma quando è che posso usare gli incensi? Quando usciamo da qua proviamo ad usarne uno. Vediamo come funzionano. Forse in realtà l'idea di usare Yusuke non è sbagliata. Perché è vero che farebbe pochi danni, ma sarebbe anche l'unico che resiste effettivamente al ghiaccio. Senza problemi. Dovrei considerare anche questa opzione. Tra l'altro devo mettere un attimo Joker. Cambiare persona. Vabbè, mettiamo principanti. E vai, attacca! Dobbiamo livellare tutte le nostre persone, quindi tanto vale farlo. E proseguiamo. Anche se, devo essere sincero, la butto lì. Vedendo tutte queste forchette, io credo che, essendo roba politica, ci sia tutto un magna magna. E quindi... Cioè, magna magna nel senso... Ruba i soldi e tutte queste cose qua. Quindi sarà tipo un blob il nostro nemico? Cioè, la tizia si trasformerà in un ammasso gigante pieno di soldi? Roba del genere? Spingi? Aiuto! Mi porta via! Aspetta, aspetta, aspetta! No, non posso mettermi di là! Uffa, volevo spingere di nuovo la massa di ghiaccio. Ecco fatto. Finiti? C'è un checkpoint qui. Ottimo. No, fermati. Volevo andare sul checkpoint io. Mi ricorda molto l'intonazione della musica. Il palazzo della bestia di Kingdom Hearts 2. Il castello dovrebbe trovarsi appena oltre. Per quanto si estende questo muro di ghiaccio? Dubito riusciremo ad aprirci un barco. Questo luogo è così freddo e disolato. È ghiacciante pensare che qualcuno possa vedere un mondo sotto quest'ottica. Per me è... È la fine. Ho tanto sonno. Oracle è svenuta. Oh, avanti. Smettiamola di perdere tempo. Deve pure esserci un percorso alternativo da qualche parte. Anche quella via è bloccata. La nostra unica opzione è proseguire per questo percorso. Affrontiamolo fin dove possiamo. Molto bene. Analizzeremo l'ambiente circostante e troveremo una soluzione adeguata. Ehi! Mi si gerano le palle qui fuori. Se non faccio subito una corsetta finirò per congelarmi sul posto. L'atleta del gruppo ha parlato. Ehi! Cos'altro posso fare? Ogni secondo che passa questa vecchia strega mette un altro cuore nel sacco. Skull ha ragione. Dobbiamo muoverci. Morgana che dà ragione a Skull. Sì. Esploriamo il perimetro del castello e scopriamo il trucco di aver entrare. Allora. Prima di tutto. Checkpoint. Oh, ma guarda. L'elicottero con il mitra. Questo deve essere un nemico bello grosso. Questo è un bersaglio, la portatrice della rovina. Allora, fermi tutti. Aguilao. Scusa un attimo. E fermo. Tu non sei debole al fuoco, sei debole alla luce. Proviamo a soggiogare i tuoi compagni. E ora, vai tu, Joker. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Attacco. Makuga. Va bene. Oh, è la. Oh, è la. Colpi di luce. Aiuto. Aia, mi ha congelato, bastarda Uno, due, tre, quattro, cinque Ma dai Dov'è? Riduce temporaneamente l'attacco, beccatela Dai, scongelati Yes, sconfitta Obiettivo completato Beh, l'ultima opzione che ci rimane è proseguire di qua, come dicevamo E dobbiamo andare di qua Ma guarda, ci sono delle lame che in realtà sono delle forchette Ti prego, fammi lanciare il pancake di ghiaccio Siamo già... Ah, è il primo torrione, di già Secondo me adesso ci bloccano l'entrata Oh, è un torrione Basandoci sulle altre prigioni, qui dovremmo trovare qualcosa che ci aiuti ad avanzare Muro di ghiaccio? Bene, il cancello è aperto Ma non avete l'impressione che qualcosa non quadri? Non rilevo nemmeno mezza ombra sul radar Ci conviene comunque non abbassare la guardia Tutto può succedere Secondo me adesso si blocca il passaggio No, strano Troppo facile Non mi convince per nulla Stavo dicendo, non c'è nulla? Ma è strano Già un torrione senza... Vabbè Manifesto elettorale E vai, un nucleo nostro! Non è stato troppo difficile Sarà che forse ci stiamo prendendo la mano Allora Joker, di che si tratta? È Mari con Yodo, quella lì sopra? Sembra il volantino di una campagna elettorale Oh, che freddo! Questa bufera è sbucata fuori da nulla Dite che abbiamo scatenato noi in qualche modo Sembra persino peggiore dell'area che dove eravamo prima Dubito che potremmo proseguire da quella parte Allora la nostra uscita è perduta Un segno di sventura, è in dubbio Ehi ragazzi, non voglio morire congelato Dobbiamo cercare un riparo Prima di restare completamente bloccati dalla neve Quello è un riparo Posso occuparmene io Ora con l'imposto alla nostra destinazione laggiù Cosa ho trovato? Beh, di qualunque cosa si tratti ci sto Magari è un sotterraneo Ascoltate C'è un checkpoint qui vicino Ma la funzione di trasporto sembra essere caputa Quindi non possiamo tornare indietro Sarà colpa della bufera Comunque raggiungiamo il posto di cui parla Sofì Allora, scendiamo di sotto Lo sapevo Lo sapevo che sarebbe arrivato un nemico Era palese che sarebbe successo Dai cacchio Era ovvio che sarebbe successo Cerchiamo di prenderne il maggior numero possibile E ora Crepaci, stronzo Il pupazzo di neve peffardo Gran bel colpo di fuoco Certo che Uccidere Jack Frost Così è veramente Una passeggiata Ah, che dolore Non so dove sono Ma ascolta Mi hai rotto le balle Beccati questo Tanto cielo Continuava a colpirmi Beccati sto fuoco in faccia Bye bye Oh, finalmente Oh, c'è un tesoro qua Uno stile KO Non so cosa faccio Ma va bene Non vedo nulla È tutto bianco Altri nemici? Attenti Ombra in arrivo Ah, pensavo Jack Frost Invece solo 70 Con dei Jack Frost Beh, visto che siete congi Tanti Me l'hai risa Proprio semplice Questa Madonna mia Ho schivato La perfezione Dove sei? Stavo per dire Dove siete? Invece ho detto Dove sei? Aia Non si vede un cazzo È tutto troppo bianco Mamma mia Certo che la forchetta Mena di brutto Ok Chi è che è salita di livello? Makoto Con Mara Kukaja Avento temporaneamente le difese Ok Insegniamoglielo Vediamo che cosa ha trovato Sofia Cos'è? Ah, è un termosifone No? Sì È una stufa È una stufa Certo che è enorme Qui dovremmo riuscire a riscaldarci Che diavolo ci fa una stufa qua fuori? Ah, l'iniziamola Vediamo che succede Ah, che bel calduccio Davvero un tempismo perfetto Stavamo per diventare degli accioli Mi basta guardarla per sentirmi a mio agio Siamo stati davvero fortunati a trovarla Sembra sospetta però Non pensi che sia un po' troppo tardi per dirlo Lieto che non sia una trappola comunque Ha visto altre stufe? Volete andare a dare un'occhiata? Vuoi dire che possiamo vederle Vederle dalla torre? Questo sì che è sospetto Forse c'è un collegamento Come se fossero state messe lì per un motivo Proviamo ad attivare tutte e tre le stufe Allora sbrighiamoci Più tempo indugiamo presso il fuoco Più diventa arduo allontanarsene Un malvagio portatore di fiamme Il cui calore retisce a lieta È tempo di recidere la tua tentazione Penso che tu stia esagerando Ok, dobbiamo trovare altre tre stufe Una si trova di là E io non vedo un cavolo di nulla Oh, Han e Ryuji sono saliti di livello Perfetto Potenza folgorazione Al posto di zio Tu invece Maragion Al posto di Aghi Se vedessi almeno qualcosa Ah beh certo posso usare il... Come si chiama? Il terzo occhio per vedere Non ci avevo pensato fino ad ora Come ho fatto a non pensarci? Come ho fatto a non pensare al terzo occhio Per vedere cosa succede Forse è troppo preso dall'emozione Non ci ho proprio pensato Vedi col terzo occhio Almeno qualcosa si vede Il singhiozzo anche Allora i nemici Ci sono Però non riesco a fargli l'imboscata Lì c'è un tesoro E lì c'è la nostra stufa Eccolo Io volevo colpirlo da dietro Non passerete Oh principati Abbiamo detto Tu sei debole all'oscurità Ma non ho nulla di ciò Quindi Riduco l'attacco Aia Allora dammi un attimo Abbiamo detto Quindi nucleare E mi conviene fare così Aspetta Attacco speciale Tolgo tutti i jack frost Di torno Almeno facciamo un po' di danno A tutti E ora Passiamo la mano A joker Dov'è Ah è morto Principati Davvero Non era resistente Al Non era resistente Al fuoco Forse il danno Che facciamo Con quell'attacco È più grande Di quanto sembri Benissimo E ora Possiamo passare E restano due Secondo me Una volta trovate tutte Ti Ti toglie tutta la bufera Semplice Povera putada C'è chiaramente freddo Aia Ecco fatto Dov'è il tesoro Vediamo che cosa abbiamo Mi ricorda molto Ilium Lois Comunque questo Scientifico Mi ricorda molto Il livello di Il livello Sì perché ho il livello Di ghiaccio Di dark soul 2 Dobbiamo proseguire In questa direzione Ma una è coperta Dal ghiaccio Vabbè Iniziamo da questa Allora Oh guarda Aspetta Scusami Non mi faccio Trovare impreparato Sarò anche Impreparato A questo gioco Aiuto Aiuto Eh vabbè Allora facciamo così Ogni colpo che faccio Continuano a fare L'assalto Ma ancora Vabbè Beccatela Beccati questa Esplosione In faccia Allora Ale Colpito Distrutto Un bel po' Di jack frost In meno Minchia Bravissimo Capitan kid Colpisci con Maragi Certo che i nemici Quando li sbatti All'angolo Contro un muro Hai la vittoria Semplice In tasca Gli fai un culo Talmente grande Che veramente C'è poco altro Da fare Si sale E altro nemico Ovviamente Mi aspettavo Di jack frost Questa volta Ammetto che mi aspettavo Di jack frost Magari adesso appaiono No L'hai spinta Della parte sbagliata Di qua Di qua Ecco Qualcuno L'abbiamo colpito Non vedo Oltre al bianco C'è anche il problema Della telecamera Oh finalmente Distrutti tutti Sofì È qui che hai visto La stufa Sì Dovrebbe essere Lassopra Ma come faremo A salire così in alto Non c'è nulla Che possiamo usare Come appoggio Controllate Ah Certo Possiamo usare Il ghiaccio Brava Sofì Molto intelligente Ecco fatto Risolto Ed ecco qui La stufetta Manca l'ultimo Esattamente Però il problema È che l'ultimo È proprio dietro Questo muro di ghiaccio Come la raggiungiamo Ah ok Pannello di controllo Penso di poterlo violare Ma ciò attirerà le ombre Voi dovrete sbarazzarvene Assolutamente Ok Hacking in corso Guardatemi le spalle Ti proteggiamo noi Anche se non vedo Un cacchio Ehi 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 Si stanno avvicinando A Futaba Maledetti Troppa gente Si sta avvicinando Maledetti Cecchini Dove sei? Ehi 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 Lontani da Futaba Aspetta 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 Colpiamo lui Aia Colpiti tutti Ok va Troppo tardi Nooo Troppa gente Su Futaba Allora Voi andate Nava scoperta Io Rimango qui A proteggere Futaba Forza 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 Venite Vi attendo Tutti quanti State lontani Dalla mia Ragazza State lontani Dalla mia Ragazza Aspetta Ferma Futaba Arrivo io Ma fermo Stai lontano Da Futaba maledetto Oh certo che a sto giro Sono proprio cattivi A sto giro proprio Stanno andando di cattiveria sull'orda Ah qualcuno ha usato diarama Su Futaba finalmente Oh io continuo a dire Che non si vede un gran cazzo di niente Usiamo Turanda Ho sbagliato Volevo usare diarama io Oh finalmente ce l'abbiamo fatta Bravissima Futaba Devo dirlo La neve è stata la cosa peggiore Che abbiamo avuto finora per i combattimenti 9 punti Dannazione Ce ne servono 10 a noi Guardate la bufera si è placata Forse le stufe Hanno fermata una volta per tutte E se è per questo che i nemici le sorvegliavano Potrebbero tornarci decisamente utili Teniamola a mente nel caso la neve dovesse tornarci a dare altre rogne Sono felice che la stufa si sia fermata Che la bufera si sia fermata del tutto Ma sembra non ci sia nient'altro qui Torniamo al parco d'ori per adesso Eh il checkpoint è ancora morto Deve esserci qualcosa a interferire Forza torniamo indietro Già che ci siamo però Attiviamo il checkpoint anche se non funziona Altro nemico grosso Che cosa sarà? Ah è proprio l'elicottero questo giro A questo giro è proprio l'elicottero E l'abbiamo sconfitto più facilmente di quanto mi aspettassi Comunque anche con le stufe accese Non è che si veda molto eh Oh guarda un nemico grosso Oh come avete fatto a superare il lesi la bufera? Per cui è questo lo scagnozzo responsabile di tutta quella neve Oh verrò pulito di sicuro se dovesse scoprire che ho commesso un errore Mi spiace ma morirete tutti qui adesso Che cosa diventerai allora? Un Jack Frost gigante Chissà perché la cosa non mi sorprende Allora prima di tutto Non ho SP Benissimo Aiuto mi ha colpito mentre mi curavo E allora beccati questo attacco in faccia Stronzo Ti sfondo A colpi di fuoco eh Sono mica tanto simpatico io Bastardo Faccio sciogliere la baccia io Aiuto Troppo in alto Troppo in alto Vai Panther Aiuto Curati E ora speciale Prima che lui faccia il suo di speciale It's show time veramente credimi Speravo molto più del danno Però ti manca poco per la tua difesa per essere distrutta Finalmente Assaltiamolo Però la difesa continua ad essere alta eh La sua eh Vediamo Diminuiamo Diminuiamogli l'attacco Già che ci siamo Quella Curatemi Curatemi per favore Media tutti quanti E poi Attacco di luce Speravo molto di più Gli attacchi speciali non fanno purtroppo tutto il danno che credo Aiuto mi ha congelato Oh finalmente Distrutto Aveva molta più vita di quanto mi aspettavo Sinceramente Bene Questo dovrebbe fermare la bufera Oh La funzione del checkpoint sembra essere riattivata Immagino che fosse quell'ombra a bloccarla Ora dovremmo riuscire ad andare e tornare a piacimento Finalmente E allora proseguiamo di qua Lo sparamento di ghiaccio è sparito È tutto vero Chissà perché Cosa mi dice che nemmeno una colossale stufa si sarebbe riuscita Ho un'ipotesi Se Shibuya che a Sendai Le chiavi per avanzare sono stati i nuclei in cima ai torioni delle prigioni Se la stessa logica si applica anche qui Allora è possibile che il nucleo che abbiamo trovato prima abbia sciolto il ghiaccio Non trovate Potrebbe benissimo essere così Non ci ho capito una mazza Ricordate che siamo nel metaverso Alcune cose sono così e basta In tal caso dovremmo sciogliere altre pareti di ghiaccio per entrare nel castello Allora ora sappiamo cosa fare Forza Shibuya pronti o no Arriviamo Quindi dove sono gli altri nuclei Questo sembra essere l'unica via che possiamo percorrere Muoviamoci Andiamo a vedere allora Grazie a tutti